L'Ailanto, Ailantus altissima, è originario della Cina ed è conosciuto anche come albero del paradiso. La chiesa di Sesto è ormai stata circondata, anche l'ex officine Grillotti. La sua invasività è dovuta soprattutto all'enorme numero di semi prodotti, fino a 250.000 per albero all'anno. Questa pianta invasiva ha ormai colonizzato tutto il nostro viale della stazione. Le specie autottone sono pressoché scomparse. La sua invasiva ha ormai colonizzato tutto il nostro viale. L'azione infestante dell'Ailanto prosegue presso la strada del posto delle valli. colonizzando tutta l'area dell'ex distributore del gas. Poi prosegue risalendo per la salaria. La ritroviamo al parcheggio dei carabinieri. Salita su per le scalette come facciamo noi quando prendiamo il treno. L'Ailanto è considerata una delle piante più dannose per il patrimonio archeologico. Le sue radici sono in grado di sgretolare muri, strade, pareti, rocce. Non teme rivali. Qui siamo in via San Francesco. Le sue radici sono in grado di sgretolare muri, strade, pareti, rocce. Le sue radici sono in grado di sgretolare muri, strade, pareti, rocce. Le sue radici sono in grado di sgretolare muri. Grazie. Grazie.